Un gesto di coesione politica oltre ogni bandiera per affrontare a livello locale l'emergenza sanitaria del capoluogo che rispecchia quella di tutto il paese. L'appello arriva dall'ex presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti, ed è rivolto direttamente all'attuale presidente Roberto Tinari. La richiesta è quella di convocare un consiglio straordinario alla presenza delle autorità sanitarie, del dottore Alessandro Grimaldi, Franco Marinangeli, Massimo Celente ed Enrico Gianzante, per varare insieme e all'unanimità provvedimenti per contenere il contagio. Voglio essere molto chiaro. Io credo che il Consiglio Comunale debba assumersi la responsabilità del varare provvedimenti urgenti e indifferibili in armonia tra le forze politiche per una volta unite in una situazione drammatica, così facemmo durante il terremoto. Infatti il Consiglio Comunale autonomamente approvò provvedimenti importantissimi come quello sull'asse centrale. Ho chiesto perciò al presidente del Consiglio Comunale di adoperarsi in tal senso. La gravità dei numeri credo che non consenta ritardi e colpevoli omissioni, rilevanti anche penalmente. Un intervento è auspicabile proprio perché la politica locale può far molto senza attendere i provvedimenti salvifici del governo ed è quella che può cercare di attagliare, mi sia consentito questo termine, i provvedimenti alle esigenze locali e alle particolarità locali. Sono sicuro che il Consiglio dell'Aquila ancora esprime le intelligenze necessarie per poter arrivare a questo. Certo vanno coinvolti anche la comunità scientifica e le autorità sanitari.